Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel romanzo storico pubblicato dalla vita felice da pochissimo dal titolo Folgore da San Gimignano, storia di un poeta cavaliere di Luciana Benotto che abbiamo il piacere di avere nostra gradita ospite perché ci parli di questo personaggio così importante e io quindi le lascio subito la parola perché ce lo illustri. Prego Luciana, a lei. Grazie Maurizio Calì e ringrazio anche chi ascolterà questa intervista, questa conversazione diciamo. Partiamo dicendo che Folgore, che io chiamo Folgore non Folgore perché c'è una scelta precisa in quanto dagli anni trenta del novecento si è pensato che fosse meglio con questo accento in quanto vuol dire fulgido, fulgido cavaliere, fulgido poeta e quindi la nuova edizione che a me mi è piaciuta e l'ho adottata. Il vero nome di Folgore era Jacopo di Michele. Diciamo che ho scelto questo personaggio, questo poeta perché di lui si ricordano solo sicuramente gli addetti ai lavori ma anche gli studenti di molti decenni fa perché ormai nelle antologie scolastiche è scomparso, tranne i rarissimi casi in cui sono riportate solo alcune righe. È un poeta un po' particolare, forse è dimenticato anche perché è sempre stato ritenuto un minore, ma anche perché è un poeta che non si sa catalogare. Non è certamente un poeta religioso, non è un goliardico e non è nemmeno uno stilnovista perché se andiamo a vedere gli stilnovisti essi partivano con versi, cioè scrivevano dei versi che andavano dal sogno alla realtà, mentre Folgore è al contrario. Parte dalla realtà e va al sogno, a questo sogno nostalgico di un passato cavalleresco fiabesco che lui ricrea nei suoi sonetti. Comunque forse sarebbe il caso anche di dire quindi chi era effettivamente Folgore. Di lui rimangono pochissime informazioni, però ho desunto che fosse sicuramente il figlio di un borghese, probabilmente di un mercante benestante, il quale le aveva di certo fatto impartire una raffinata educazione, altrimenti non avrebbe scritto dei versi così belli, così raffinati. Nelle informazioni si dice che probabilmente nacque nel decennio degli anni 70 del XIII secolo, non si sa la data precisa. Io ho ipotizzato il 1277 in base dei miei calcoli che lo vedono perché poi lui farà anche delle imprese militari e quindi non poteva essere troppo vecchio e di conseguenza mi sembrava più corretta scegliere questa data, però non esiste una data precisa. Ho detto che di lui si sa pochissimo perché è sparito dalla circolazione a un certo punto e di lui si è parlato solo, diciamo, 300 anni dopo la morte, praticamente nel 1661 uno studioso, un certo allacci, pubblicò i suoi versi che ritrovò e quindi ritornò un po' in auge. Comunque di lui parlano i 35 sonetti che sono rimasti, probabilmente ne avrà scritti ne avrà scritti anche di più, ma questo è rimasto. Sono sonetti della prima parte della vita di un certo tipo, alla fine poi cambia anche un po' genere. Diciamo che comunque, adesso ne parliamo un po' piano piano, la spiegazione per quanto riguarda questa sua sparizione di 300 anni dalla narrativa. Io l'ho pensata e non la rivelo adesso, l'ho messa nell'epilogo del romanzo, epilogo in cui anche narro la sorte che San Gimignano ebbe nella metà del 300. Sono anche informazioni quelle che, per la ricostruzione, legate ai fatti storici che lui disse. Folgore è un uomo che vive a cavallo tra il 200 e il 300. Questo è un periodo molto vivace per la Toscana, perché è l'epoca del libro comune, libro comune in cui governavano i cittadini e questi autogovernandosi non volevano interferenze da parte di altri. Di conseguenza ogni tanto c'erano delle lotte, per esempio contro l'imperatore Arrigo VII che voleva conquistare tutta la Toscana, c'erano delle lotte con Guelfi, Guelfi bianchi e Guelfi neri, quindi è il periodo delle lotte tra Guelfi ghibellini, Guelfi bianchi e Guelfi neri. Sono delle lotte fratricide queste e quindi di tanto in tanto anche nei paesi, ma anche in San Gimignano, c'erano delle zuffe dovute a questi attriti legati alle fazioni diverse. Comunque è un periodo d'oro per San Gimignano quello in cui visse Folgore, perché era un momento in cui la mercatura, la borghesia comandava, comandavano i Guelfi bianchi e il paese si era arricchito grazie alla vendita dello zafferano, oltre che della vernaccia, ma soprattutto dello zafferano, un po' come faranno gli olandesi nel Seicento con i tulipani insomma. E quindi si erano create delle fortune, si erano costruite addirittura delle nuove torri, oggi a San Gimignano è considerata la New York del Medioevo, ce ne erano 74, adesso ne sono rimaste 14. Comunque all'epoca addirittura questi mercanti avevano unito queste torri a dei palazzi in modo da avere la casa e la torre. Contemporaneamente la torre era un simbolo insomma di potere, che era stata prima quella dei nobili, nobili che ancora c'erano al tempo di Folgore. Comunque è una società prospera, una città molto bella, in cui lui vive questo periodo felice insieme a una brigata di amici che riporta, i cui nomi vengono riportati nei suoi sonetti e quindi io racconto di questi suoi amici che avevano dei nomi per noi oggi moderni, veramente stravaganti. Posso citare Cione Brandani, Mino Fucci, Lapo Bonfiglioli, Tiongoccio dei Tolomei, Mugavro del Balza, Fainotto Squarcialupi, oggi nessuno si chiama più in questo modo. Comunque fa fascino avere questi nomi antichi riportati dallo stesso autore perché li conosceva, li frequentava. Per ritornare un attimo a questi suoi versi, che ha dedicato anche agli amici, sono versi dalla profonda carica emotiva, in cui lui parla di questa allegra brigata, parla dei piaceri della vita, era un po' epicureo, mi piaceva mangiare l'arrosto, bere il buon vino, divertirsi, andare a caccia e odiava per esempio invece l'avarizia, è una cosa che lui non sopportava. Quindi come lo possiamo catalogare dall'ambito letterario, un personaggio del genere? È un po' un unico. Potremmo dire a Zerbano che era aristocraticamente un poeta giocoso dalla penna raffinata ed elegante. E lui utilizzava per scrivere questi versi, che sono praticamente quelli più importanti suoi, sono due collane. Una collana in cui parla dei mesi dell'anno e una collana che parla dei giorni della settimana, in cui lui usa uno stilema letterario provinzale che si chiama Plazere, in cui augura ai suoi amici tutte le cose più belle che uno può desiderare. Quindi è una persona sicuramente simpatica, ottimista, nonostante appunto un po' queste situazioni instabili dal punto di vista politico comunale, sia a San Gimignano ma anche negli altri comuni della cosiddetta Taglia Guelfa, che era cappeggiata dalla potente Firenze. Però uno dice, ma allora sono cose semplici di una persona a cui piaceva semplicemente divertirsi. Bisognerebbe guardare anche al di là dell'apparenza, perché in realtà questi versi erano anche versi di propaganda per il suo comune e per quello di Siena. Quindi bisogna avere una doppia chiave di lettura. Certo che col trascorrere del tempo, con l'età matura, lui cambiò un po' genere, nel senso che divenne molto più serio e i suoi sonetti, di cui ne sono rimasti un momento cinque, hanno dei forti connotati politici. Sono delle vere e proprie invettive contro i nemici, per esempio anche contro Ugucione della Fagiola, che lui vide nella famosa battaglia campale di Montecatini, alla quale sicuramente prese parte, altrimenti non avrebbe potuto scrivere quello che ha scritto. E quindi cambia, cioè diventa una persona più seria, più posata. Il ragazzo che è stato rimane, questo sognatore rimane dentro di lui. Comunque, forse non ho detto che lui era un guelfo bianco, un irriducibile guelfo bianco, quindi ci teneva particolarmente ad appartenere a questa categoria. Però vorrei anche dire una qualcosa a chi ci ascolta, perché altrimenti si spaventano e dicono, oh, questa signora ha scritto un saggio, no? In realtà io ho scritto un romanzo in cui ho narrato le avventure di Folgore da San Gimignano, ho narrato i suoi amori, gli scontri militari a cui ho partecipato effettivamente, le riunioni con gli amici. E ho parlato anche di personaggi veramente esistenti. Ho parlato di Dante Alighieri perché lui lo conobbe quando Alighieri andò a San Gimignano a fare un'ambasceria per il conto del comune di Firenze. Ho parlato di chiaro d'avanzati che ho ipotizzato potesse essere un suo amico, anche se il poeta era anzianotto, abitava a Firenze, ma mi è piaciuto tirar fuori anche dalle pieghe del tempo questo personaggio, anche lui poveraccio, dimenticato, ma secondo me è un poeta di valore. Ho parlato anche di un pittore che aveva bottega a San Gimignano che si chiamava Memo di Filippuccio e con cui poteva avere benissimo stretto un'amicizia, in quanto San Gimignano insomma una cittadina non si conoscevano tutti e quindi le persone di un certo livello, insomma di una certa cultura sicuramente si frequentavano. Io ho messo anche un amico templare, un frategidio, che effettivamente dirigeva la magione templare di San Gimignano e poi venne poveraccio arrestato dall'inquisizione, quindi poi racconto anche la sua vicenda all'interno del romanzo. E parlo anche di un cosiddetto nemico di penna, di folgore, un poeta gogliardo aretino, cenne da chitarra, che fece la parodia della sua collana dedicata ai mesi, sconciandogliela e quindi irritando folgore, perché in quel modo lui, utilizzando questo stilema che invece era il contrario del Prasé e della Lenoeg, distruggeva il mondo meraviglioso che folgore aveva creato, l'atmosfera incantata e fiabesca di questo mondo cavalleresco della morente società cortese feudale. E quindi diciamo anche questo nemico di penna, tra l'altro se folgore era un guelfo bianco, l'altro era anche un irriducibile ghibellino e quindi erano nemici anche dal punto di vista politico. Che dire di più? Che il romanzo è ricco di amenimenti, capita di tutto di più e quindi spero che possa piacere ai lettori che tra l'altro solo l'hanno già acquistato, qualcuno mi ha già scritto, perché il libro è uscito il 12 di luglio, però qualcuno l'ha già letto perché avendo già letto i miei precedenti erano molto interessati a vedere che cosa avevo scritto di nuovo e quindi la cosa mi fa in oltremodo piacere. Beh sì, sicuramente è un argomento interessante. Poi io so che i suoi romanzi sono molto puntigliosi anche dal punto di vista del rigore storico, quindi c'è finzione letteraria ma documentazione storica importante. Sicuramente perché non mi va di raccontare frottole, infatti io mi sono fermata quando Folgore aveva 42 anni perché poi non ho trovato più notizie, tranne quella della sua morte e non mi andava di raccontare cose non realistiche. Quindi ho detto che le informazioni erano poche, ma in realtà io sono riuscita a ricostruire questa sua vita grazie a un'attenta analisi delle poesie e a queste incariche militari perché ho raccontato dove andava, cosa faceva, con chi andava. Quindi è stato un lavoro abbastanza impegnativo, però siccome il personaggio mi sta simpatico l'ho fatto volentieri. Bene, allora io ricordo il titolo, questa volta lo pronuncio giusto. Folgore da San Gimignano di Luciana Benotto, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite, Historia di un poeta cavaliere, anche il sottotitolo è importante, appena pubblicato dalla Vita Felice, quindi correte in libreria se volete trascorrere una piacevole estate leggendo questo romanzo storico. Grazie Luciana davvero tanto e spero a presto. Grazie a te e Cisi, speriamo tutto bene. Grazie per tutto e anche a chi ha ci ascoltato, lo ripeto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.